il fondamento è Gesù quindi sta parlando qui non agli increduli non alle persone che non hanno Gesù sta parlando alla chiesa il fondamento è quello tu hai accettato Gesù il fondamento c'è noi possiamo decidere che sul fondamento di Gesù perché noi siamo in Cristo possiamo costruire quello che vuoi e lui ce lo permette Gesù ma quando arriverà la prova cosa durerà non facciamo regnare Cristo nella nostra vita perché tutta l'edificazione sopra Cristo quindi anche è come se noi vituperiamo perché noi stiamo costruendo male sopra Cristo se tu edifichi la tua casa sulla roccia e l'edifichi come Dio ci dice di edificarla perché ora noi la dobbiamo costruire Dio ci ha messo le basi se noi costruiremo su queste basi e allora veramente potrà avvenire terremoti maremoti tsunami qualsiasi cosa ma la casa resterà ferma lì sulla roccia il fondamento di Gesù quando arriva un terremoto quando arriva un alluvione disastri ne abbiamo visti nei telegiornali no cosa si vede la casa crollata ma il fondamento è là il fondamento non se ne va è là se tu hai costruito bene sul fondamento resta il fondamento e resta la casa perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto cioè Gesù Cristo io prima di conoscere il Signore stavo costruendo la mia vita su un altro fondamento avevamo delle idee magari buona attenzione ma non era il vero fondamento magari tu puoi edificare cose non corrette ma quando ci sarà la prova verranno a galla perché passarei attraverso il fuoco dice lì se una cosa è in Cristo quindi frutti dello spirito pure se passa attraverso il fuoco pure se passa attraverso le prove ne uscirai indenne ne uscirai pulito perché se passi verso il fuoco qualcosa qualche bruciatura la prenderai ma quando ne uscirai sarai più che vittorioso perché insieme a te c'è Cristo il l'edificio è fondato su Cristo l'edificio è stato costruito su Cristo ma con con dei con delle opere della fede dello spirito e non della carne lì in quel punto si vedrà chi resiste e chi non resiste chi ha fatto dio sovrano come si diceva e chi ha fatto un dio sempre sovrano perché lui non cambia ma che hai costruito delle cose sopra di lui perché il fondamento è sempre in quella maniera sempre Cristo edificato male e lì ci saranno la resta dei conti l'opera di ciascuno sarà manifestata perché il giorno la paleserà sarà chiaro sarà pubblico poiché sarà manifestata mediante il fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno se qualcuno se alcuno guasta il tempio di dio dio guasterà lui perché il tempio di dio che siete voi è santo e noi stessi tante volte guastiamo il tempio di dio non gli altri noi e se noi guastiamo questo tempio che non è nostro ma è suo il tempio che sei tu non è tuo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti